Eccoci qua, come aumentare l'autostima con le ragazze. Questo è sicuramente un argomento che non passerà mai di moda, un evergreen. Davide, quante persone che segui hanno problemi di autostima? Hanno problemi di autostima? Penso che un po' tutto l'universo abbia problemi di autostima, le ragazze stesse hanno problemi di autostima, tutti in realtà. Conosco veramente poche persone che hanno un'autostima veramente molto alta e intoccabile. Sicuramente però diciamo che ci si può lavorare affinché la nostra autostima sia abbastanza grande da, diciamo, riuscire poi a farci ottenere quelli che sono i risultati che vogliamo. Ne sto parlando perché c'è molta confusione, vedo, anche tra le persone, tra quello che piuttosto potrebbe essere l'ego e quella che invece è l'autostima. Sono due cose completamente differenti. Cioè l'ego è qualcosa che noi ci creiamo ma che è veramente molto fragile a fronte di cose che ci accadono nella vita. Faccio un esempio proprio banale di una donna, magari di una ragazza, che potrebbe avere sicuramente magari l'ego smisurato in delle piattaforme di incontri o su Instagram. Perché? Perché riceve continuamente like, commenti, messaggi privati, eccetera, eccetera. Quindi l'ego potrebbe sicuramente magari essere molto alto. È vero anche però che sono certo al 100% che lì dove arriva da una persona che lei reputa importante o al di sopra del proprio valore, un commento negativo. Sono certo al 100% che l'ego crolla, proprio fragile come un cracker. Esattamente, sto facendo l'esempio della metafora di prima. Fragile come un cracker, come un grissino che si spezza, per dar, diciamo, voce a quello che lei invece internamente si sente per davvero, ovvero un'autostima molto bassa. È una cosa che hanno tanti uomini, tanti studenti che si avvicinano all'accademia e che ho seguito in particolar modo. E sai da cosa me ne accorgo? Me ne accorgo sia quando le persone lo mascherano, quindi create un'identità che in realtà è illusoria. E me ne accorgo perché poi in chat, sulla base di come loro reagiscono di fronte alle vicissitudini, ai vari test che magari una ragazza può fare loro in chat, oppure ad un pacco, ad un appuntamento, ecco che lì, essenzialmente, quando loro vengono messi in dubbio, esce fuori la verità. Quindi cercano di nascondere, di mascherare magari questa loro insicurezza, tanti lo fanno dal vivo parlando molto velocemente, andando a chiudere tutti i silenzi che si creano in conversazione. Tanti altri in chat lo fanno copiando e incollando le frasi che noi diciamo essenzialmente, no, per darsi valore. Ah no, eh, sono bombardato qui, spostiamoci su WhatsApp, quando in realtà bombardato un bel paio di... Tevo dicendo, non finito, non concludo la frase. Bombardato niente, cioè è poco credibile. Perché? Perché il modo in cui ti sei presentato e come portato avanti la chat non ha dato questa percezione di una persona molto ricercata, sempre impegnata, una persona che ha tante situazioni. Lo si capisce dalle piccole... non è la frasetta in sé. Questa è una cosa che tanti non capiscono, ok? Tanti vogliono fare la parte tecnica, la parte di frasi che naturalmente viene affrontata, ma non si rendono poi conto che nel momento in cui si trovano da soli in chat a conoscere una persona essenzialmente con un'autostima molto alta, che li testa attraverso delle piccole, magari frecciatine, magari con dei piccoli giudizi, delle... che ne so, anche soltanto, vedi, ho avuto una chat di recente con un ragazzo dove una ragazza gli ha detto, lui, una roba del tipo, comunque se devo darti un consiglio, se ti approcci così con le ragazze sappi che non andrai molto lontano. Ero io. Quante persone, ricevendo una frase del genere, rimangono imperturbabili? Quante? Per quanto mi riguarda, penso, forse nessuno degli studenti che fanno parte dell'accademia, ma proprio pochi, forse, rimangono imperturbabili e agiscono in maniera corretta, ok? Senza mostrare questa distruzione dentro, questo turbamento. Non mi tocchi. Una cosa che ho imparato è che essenzialmente l'autostima... Dobbiamo immaginarci di essere come una banconota del danaro, ok? Se noi valiamo, per esempio, adesso è una metafora brutta, valiamo 20 euro, e una persona ci accartoccia, non è che il nostro valore monetario cambia, non è che vado a pagarmi una confezione di latte e mi dicono, No, questa banconota da 20 euro, siccome è tutta stracciata, è stata attaccata, calipestata, vale 1 euro. No, vale sempre 20 euro, ok? Questo è in grado di fare un'autostima alta, ok? E l'autostima la si va, diciamo, a gestire, migliorare ed aumentare nel momento in cui io mi guardo allo specchio e dico, ok, mi piaccio, so di essere una persona di valore, so di essere una persona che vale. Come faccio ad arrivare a questo punto? Perché molti mi dicono, grazie, nel senso, tu riesci a uscire, chatti, fai, conosci, hai una vita, hai un lavoro che ti piace, per te è facile. Certo, è vero, assolutamente, e lo comprendo, lo capisco perfettamente perché ci sono passato anch'io in passato, passato anch'io in passato. Bisogna lavorare assicurandosi di avere innanzitutto dei rapporti con i propri amici che siano in qualche modo appaganti, perché molte persone mi rendo conto che si sentono sole e quindi anche da lì l'autostima decade. Mi rendo conto che tante persone hanno rapporti difficili e complessi con i genitori, anche da lì la famiglia, anche quello, è, cavolo, è diverso avere un genitore che ti appoggia piuttosto che uno che continua a dire, che continua a sbagliare ogni scelta che fai. Non hai mai l'appoggio magari di un genitore, di un padre, di una madre. Mi rendo conto che tanti hanno un lavoro che non li fa sentire appagati, però non fanno nulla per cambiare questa situazione. È chiaro che mettendo questo, questo, quest'altro e in più zero risultati con le ragazze, l'autostima crolla ed è complesso risalirne, però si può fare. Io ho dato un programma da fare ad uno studente ad hoc, come un personal trainer proprio, adesso sto cercando di seguirlo perché poi non è semplice, per andare, diciamo, a migliorare questa cosa qua. È ovvio ed è scontato, tutti devono saperlo, che è un qualcosa che va, diciamo, gestito nel tempo. È una cosa lunga, non è semplice, non è dall'oggi al domani che mi sento tac, mi sento un figo che ha risultati, che ha... Assolutamente. Ed è una cosa fondamentale da avere, per forza, non si può scappare. Se hai bassa autostima è difficile che tu abbia risultati con le donne. Il problema è proprio, cioè, rotta tutto un concetto, cioè sbatterse nelle palle di quello che dovrebbero pensare le persone che hai attorno e iniziare a dire le cose che tu pensi, fare le cose che vuoi, nei limiti, chiaramente, dell'educazione, dell'etica morale, però vivere la vita che vuoi. La vita che vuoi non la vivi, ok, col progetto cui stai sognando, quindi forse tra dieci anni. La vita che vuoi la vivi ora, in questo momento, con le scelte che fai ad ogni ora, ogni singola ora del giorno, ogni singola situazione che ti capita, che sia poi a lavoro, che sia poi tra gli amici, che sia poi banalmente alle poste con qualcuno e poi si riflette tutto negli ambiti in cui un uomo tiene di più. Assolutamente. Sono da capo con te, ma anche semplice una persona che si sente brutta, perché magari ha un peso importante, cioè la scelta che puoi fare lo è anche magari nella... che cosa mangi oggi a pranzo, a cena, che cosa hai mangiato oggi a pranzo e a cena, sei soddisfatto del tuo peso, perché non ti sei fatto una... insomma, non hai creato una routine, anche a livello alimentare, che ti renda ai tuoi occhi, non agli occhi degli altri, più interessanti, più affascinanti allo specchio. Dalle piccole cose. Grazie Davide, grazie mille. Ciao alla prossima.